Mai prima d'ora è stato indetto un Dreamers Day, è ora di farlo, di connettere e radunare tutti i sognatori del pianeta e di mettere al servizio dell'umanità la loro energia, consapevolezza, creatività ed intelligenza. Una festività planetaria che ha il compito di ricordare che il sogno è la cosa più reale che ci sia. Uniamoli, connettiamoli, conosciamoli, insieme saremo capaci di spostare le montagne, di risolvere i problemi dell'umanità da sempre irrisolti. Grazie per la visione!